Diabolik ha bisogno di fare un colpo al più presto Ci siamo Allora intanto devo dire a Monica Bellucci questa è una cosa personale Che io sono appena diventata zia di due gemelli E la bambina si chiama Altea Proprio in onore di questo personaggio Perché la mamma è grande fan di Diabolik Quindi Altea nel mondo Lo senti il peso di questa cosa adesso per l'intervista? Sono felice, adesso sono ancora più felice Comunque è bellissimo un nome tra l'altro Altea è bellissimo E bellissimo personaggio Perché è l'unica che un po' incide questa scorza dura di Ginko Io ho subito una domanda Massa Andrea mi aveva detto l'altra volta Che in realtà Diabolik non lo vuole prendere davvero Perché se lo prende è finita Esatto Non vuole nemmeno baciare Altea però Vorrebbe baciare di più Diabolik a questo punto? Guarda lì alla fine Dalla fine voglio dire Il sentimento è talmente forte nei confronti di tutti Che la possiamo anche buttare in cacciara Però no, non è vero Non vuole arrendersi a questo amore così clandestino e non detto Diciamo perché secondo lui magari quella roba Lo può scalfire Può far venire meno il suo intento principale Che è quello della caccia ossessiva e ossessionata Invece no, invece di essere fragili per certi aspetti può anche dare più coraggio e più determinazione in alcune cose Secondo me è poi Non so se il personaggio l'ha restituita questa cosa Altea capisce l'ossessione di Ginko ecco Quanto è importante anche farci prendere a volte dalle proprie ossessioni perché ci tengono insomma Ma lei Altea ama Ginko e lo ama anche per questo perché comunque è impavido Non c'è niente che lo frena In questa ricerca, in questa lotta E lei in qualche modo lo aiuta Ne è gelosa ma è quasi che ci gioca con questa cosa Perché quello che le piace di lui è proprio che è così duro Che è così anche chiuso Perché è una donna che può avere tutto Quindi la difficoltà che trova ad aprire il suo cuore è anche qualcosa che la eccita Perché è un personaggio misterioso, una femminilità particolare Una delle primissime frasi che viene detta all'inizio di questo film Quando i poliziotti stanno giocando a carte è Non è tanto divertente giocare, la cosa divertente è il rischio Quanto è stato un rischio per voi questo film? Quanto vi piace proprio il rischio anche nella vostra carriera? Beh, se non si rischia facendo quello che facciamo noi Se uno cerca solo le strade già battute E comunque in cui si trova a suo agio è un peccato Perché poi il nostro lavoro così D'espressione pura Quindi magari cercare di sbagliare anche Di sperimentare Insomma, certo più vai avanti e più è difficile Accettare il rischio e cerchi la comfort zone sempre di più Però non bisogna, credo che sia proprio il senso profondo Di fare un tipo di lavoro artistico Ecco, cioè quello di rischiare Sì, di fare progetti che ti fanno evolvere sempre Dove in qualche modo cerchi sempre nuovi limiti E anche di migliorare Perché questo è un lavoro dove non si impara mai Il rischio c'è sempre E quindi anche ritrovarci in questo progetto Che è un progetto anche difficile Per il panorama italiano Anche diverso E io penso anche proprio per questo Che questa trilogia Dei Manetti Brothers Può avere anche un cammino internazionale Una cosa bellissima di questo secondo film Che nel primo c'era un po' meno È che ci sono tantissimi gadget Come dei fumetti I vostri personaggi ne hanno un po' meno Devo dire la verità Ce l'hanno più Eva e Diabolic Ma voi ne vorreste qualcuno? Ce la vedete nel prossimo film? Qual è un gadget che vorreste usare? Ah ma non possiamo dire cosa succede nel tempo? No, io poi come gadget mi basta la pipa Che non è neanche facile accendere in scena Davvero? E beh, forse te ne sei resa conto No No Allora hanno montato bene Perché? Che succedeva? No, no, era sempre molto complicato Perché insomma Non traccendeva? Eh sì Bellissimo E invece Un'altra frase è Niente viene prima di Diabolic Il sonno, l'amore o la morte? Ecco Quanto è lecito spingersi Oltre Per inseguire i propri obiettivi? Cioè addirittura la morte? Obiettivi ideali Insomma Ne è piena la storia Ma io penso sempre che Finché uno vuole lottare per le cose in cui crede Lo deve fare Diciamo Poi arriva un momento in cui ti arrendi pure magari Però L'amore è una cosa per la quale vale la pena Diciamo andare sempre Spingersi anche un po' oltre Tutti questi personaggi giocano con la morte Tutti Anche per questo che c'è una grande sensualità In qualche modo Anche noi ci baciamo in un cimitero A un certo punto Che è proprio il discorso di amore e morte Con quel cappotto poi Più sensuale di quel cappotto No il tuo Il mio Infine Curiosità È stato più difficile baciare Monica Bellucci o accendere la pipa? Ok Questo è una bellissima Sì veramente Bellissima Non riesco neanche a rispondere L'hai capito da sola Va bene Grazie mille Grazie Ciao Grazie Grazie mille Grazie mille Grazie a tutti.